Phonix Fractal Rustico Phonix Fractal Rustico è una finitura per decorazioni di interni ad effetto rustico tridimensionale, disponibile in base trasparente, colorabile manualmente o con tintometro computerizzato. Per preparare il fondo applichiamo due mani di Moujart Quartz e come consolidante ad elevata penetrazione possiamo usare il Moujart Fix. È un prodotto pronto all'uso. Applichiamo il Phonix Fractal Rustico con un pennello piatto di dimensioni variabili in funzione dell'effetto finale desiderato. Dopo alcuni minuti di appassimento passiamo sulla superficie una spatola di plastica leggera e flessibile per ottenere l'effetto decorativo. Il prodotto può essere applicato in una o due mani in funzione dell'intensità cromatica desiderata. Realizza il tuo mondo di colori sognato utilizzando il Phonix Fractal Rustico.